Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Loretta Goggi ricorda spesso il dolore che ha dovuto affrontare in seguito alla drammatica perdita che le ha cambiato la vita Loretta Goggi è una delle più grandi artiste dello spettacolo italiano. Cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica e doppiatrice italiana, è amata dagli italiani ancora oggi La sua carriera è iniziata negli anni 60, quando ha iniziato a lavorare come attrice e cantante Negli anni 70 ha raggiunto il successo come conduttrice televisiva, conducendo programmi come Pronto, Raffaella, e Fantastico Negli anni 80 ha continuato a lavorare in televisione, conducendo anche il Festival di Sanremo nel 1986 Ha pubblicato diversi album di successo, tra cui Maledetta Primavera e Io Canto Negli anni 90 si è dedicata anche al teatro, recitando in diversi musical Ha inoltre condotto diversi programmi radiofonici e ha continuato a lavorare come doppiatrice Nel 2008 ha sposato Gianni Ibrezza, con il quale ha vissuto una storia d'amore durata fino alla morte di lui nel 2011 Loretta Goggi è un'artista completa e versatile, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento, la sua simpatia e la sua energia Purtroppo la perdita del suo grande amore è stato un brutto colpo per lei La coppia era molto amata dai telespettatori, la loro complicità e il loro talento artistico hanno conquistato il pubblico che li ha sempre visti come una coppia perfetta Loretta Goggi e Gianni Brezza sono stati una delle coppie più famose e amate dello spettacolo italiano La loro storia d'amore, nata negli anni 70 e durata fino alla morte di Brezza nel 2011, è stata un esempio di grande amore e complicità, sia nella vita privata che in quella professionale I due si sono conosciuti nel 1979, quando Goggi era già una star della televisione italiana Brezza, coreografo e ballerino di successo, era stato chiamato a lavorare con lei nello spettacolo pronto, Raffaella Inizialmente i due non si piacquero, ma col tempo l'attrazione si trasformò in amore La loro relazione fu inizialmente clandestina, a causa della differenza d'età tra i due e del fatto che lui era già sposato Nel 1982 Brezza divorziò dalla prima moglie e si mise con Goggi, con la quale iniziò a collaborare anche professionalmente Nel 2008, dopo quasi 30 anni di convivenza, Goggi e Brezza si sposarono La cerimonia fu celebrata in forma privata, con la sola presenza dei familiari e degli amici più stretti La loro felicità fu però interrotta dalla malattia di Brezza, che nel 2011 fu colpito da un tumore al colon L'uomo morì il 5 aprile di quell'anno a 74 anni.La morte di Brezza è stato un colpo devastante per Goggi che ha sempre dichiarato di non essersi mai ripresa dal suo lutto L'artista ha comunque continuato a lavorare, portando avanti la sua carriera e il suo impegno nel sociale Goggi ha confessato in più di un'occasione che non è riuscita del tutto a superare il dolore del lutto Quando Brezza se n'è andato, l'artista è stata male per mesi durante i quali faticava addirittura a uscire di casa o camminare Alla fine, grazie alla sua forza di volontà, è riuscita a farsi coraggio e riprendere in mano la propria vita L'amore tra Loretta Goggi e Gianni Brezza è stato un amore grande e intenso, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo italiano Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video